bentornati a radio design oggi avrò per almeno 30 secondi questa voce sua dente solo per voi sono nicola polombo qui docente anche se non sembra di web marketing all'istituto italiano design come paolo consulente di web marketing è una new entry in questo programma e tornerà ogni settimana a trovarci lei è benvenuta completamente inesperta della materia questa interessante questa quota elena è la quota rosa che tutti vorrebbero che però a grandi competenze in ambito di scrittura lei rappresenta qui sette pagine ho sbagliato 7 pagine 7 pagine e poi mentre tra una stadia all'altra ci spiegherà anche cos'è ma oggi partiamo cambio subito tono di voce molto prubrioso comunque resta bellissima la tua voce grazie paolo oggi parliamo di stadia perché questo è un programma che parla di cultura digitale noi siamo degli evangelisti della cultura digitale e oggi vi spiegheremo con grande brio e allegria grazie alla nostra anche quota rosa che fa così e muove anche le manine in video di stadia allora paolo sei l'unico che ha studiato quindi spiega cos'è stadia perfetto vi passerò i compiti allora tanto per cominciare diciamo stadia se vi va allora stadia cos'è stadia in breve è la cosa della quale tutti stanno parlando è una piattaforma per lo streaming legata al mondo del gaming che google ha presentato al gdc hai già usato due parole in inglesi bruttissime sì è vero è vero è vero è vero però se non dici gaming non sai nessuno o gamification esatto esatto però l'abbiamo detto quindi ci siamo tolti questo fardello vai avanti allora una piattaforma una multiplattaforma praticamente che non è più legata al concetto di hardware quindi prendete la vostra playstation prendete il vostro computer e lanciatelo dalla finestra perché mamma google ha previsto una soluzione che non richiede hardware o meglio non richiede hardware che voi possedete l'hardware c'è e nei data center di google e lì viene effettuato tutto il calcolo il gioco arriva nelle nostre piattaforme semplicemente in streaming sotto forma di abbonamento come quello di netflix lo diamo intanto un un quadro generale della situazione cara elena di come è messo il mondo del gaming possiamo semplicemente citare alcune delle piattaforme che dominano il mercato due o tre player esatto sul mercato abbiamo sony con playstation sony con playstation abbiamo microsoft con xbox e nintendo con le sue piattaforme ecco io faccio una premessa odio giocare odio chi gioca mi state odiando in questo momento e odi anche me e odio anche paolo se parla di gaming quindi ti sto odiando elena uguale perché avendo una rivista esatto però le conosco queste perché mio fratello una mio cugino un'altra so di cosa so di cosa parla io elena la voce del popolo esatto e certo ma serve no io manco quello perché non sono neanche circondo di gente che gioca mio nipote forse paolo non lo so però sono informazioni stupendo ciao nipote di nicola palumbo in tutto questo si innesta anche potremmo dirlo twitch sì il sistema di streaming non so se tuo fratello twitcha quotidianamente magari sta su tinder tutto il tempo salutiamo lo invidiamo un po è figo tuo fratello allora schiaccia su tinder benissimo andiamo avanti ciao filippo continua a schiacciare senza pietà filippo sei il top andiamo avanti no twitch ecco twitch è una piattaforma di streaming video legata al mondo dei videogiochi mamma mia e in questo caso si inserisce proprio google perché va a contrastare questo competitor offrendo una piattaforma attiva 360 gradi noi pensiamo che google offre servizi su ogni fronte e intrattenimento di tipo culturale pensiamo google books youtube ed è qui che proprio sullo streaming video che si fa forte l'intervento della grande g perché è previsto un'integrazione molto importante tra youtube e google stadia pensate che soltanto lanciando un video legato a un dato titolo un dato videogioco sarà possibile comprendere un tasto play che consentirà all'utente di passare direttamente al gioco in prima persona quindi questo porta il gioco in una dimensione nuova molto più inserito nell'ecosistema digitale di google inoltre è stata prevista anche la possibilità di condivisione di un salvataggio di un gioco quindi se tu arrivi a un certo punto ti rompi le balle perché non riesce a superare un dato livello come succede ogni giorno succede anche a elena succede ogni giorno e allora elena mi può passare questo link e io posso proseguire il gioco e ricondividere con la community il punto di salvataggio è una cosa molto interessante per influencer per youtuber chiaramente stimola le coinvolgimento della community quindi molto importante molto figo io saluto tutti la cosa bomba che dicevi è che è fruibile ovunque addirittura sulla tv con un prezzo veramente irrisorio grazie alla chromecast conosci la chromecast e quella pennettina di google che ti permette di rendere una tv di merda una smart tv sembrava l'esame alla prostata come l'hai fatto perché lo infili nell'hdma in un modo molto suave di gentile dipende tu se fai bondage o meno ma insomma lo dipende dai usi sessuali ma lo puoi infilare anche dolce non ho usi sessuali sono sono un cherubino e sono completamente assessuale questo era per dire che è fruibile ovunque quindi da tv da computer da browser con estensione di chrome ma è stato poco quindi è una bella figata è stato testato soprattutto sui smartphone quindi questa è una è una bella frontiera perché comunque l'hardware che tu devi comprare che devi aggiornare perché la tua playstation 4 va bene oggi tra cinque anni non andrà più bene dovrai aggiornarla per avere gli ultimi titoli invece questo sbattimento di aggiornare l'hardware ora se lo prende la big g se lo prende google quindi considerate che può tradursi risparmio questa cosa però ci scolleghiamo completamente ciao bello sei bellissimo faccio una storia ci scolleghiamo completamente dall'oggetto culturale di possesso era filippo il fratello di elena non stava salutare non stava schiacciando ma ci sarà anche una console attenzione spoiler di nicola palumbo ci sarà stedia gpu che avrà attenzione una potenza grafica di 10.7 teraflops che non vuol dire 10.7 cose che vanno male che vanno in flop sempre tornando a tinder che usa tuo fratello ovviamente che sarà di una potenza doppia rispetto alla playstation 4 pro che non so cosa sia la playstation 4 pro è questa playstation sotto steroidi che sony ha lanciato qualche mese fa e che è pensata soprattutto per sostenere la piattaforma realtà virtuale playstation war ancora non è molto diffusa la maggior parte di utenti usa playstation 4 regolare non si tratta altro che un aggiornamento di playstation 4 però questo ti dà la cifra della violenza con la quale google vuole entrare sui competitor basterà questo piano di mezzo perché è la violenza con la quale google vuole entrare mercato benissimo quindi ok credo che qualcuno vor chiederà mie notizie come padrone sadomaso a questo punto ma andiamo avanti scusa elena ancora una volta no prego ti prego mi avete già mi avete cooptata qui vabbè elena cosa ne prego tu già te ne fottevi dei videogiochi prima chiaramente no il discorso invece è comunque molto interessante e in realtà in effetti la cosa che mi sembra di potermi legare è questa del 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 marino e questa è l'inquadratura ci sono ci sono ancora capito io non ho capito un cazzo e questa della dematerializzazione quindi del rapporto con l'oggetto che che viene meno perché appunto chiaramente questo accade anche nell'ambito eh eh culturale editoriale insomma di qui eh mi occupo con gli ebook con gli audiolibri con appunto i servizi eh gli abbonamenti no nelle varie piattaforme che sostituiscono un po' appunto il rapporto con il singolo oggetto che semplicemente era il libro ma anche non so il dvd o l'album musicale in realtà quindi ecco io ehm me piace a me in realtà piacciono queste queste novità le guardo con molto con molta fascinazione però ehm mi piace pensare forse un po' utopisticamente utopicamente che si che possano andare insomma in parallelo ecco e che non segnino quindi né la morte del del supporto fisico di nessun tipo quindi né del libro né del né del né del dvd eccetera non so mi amicadono le cuffie cioè sono tipo enormi perché tanti capelli io non so cosa significa e cioè appunto insomma il fatto di avere un abbonamento a netflix che poi io non ho però in realtà poi scrocco quello degli altri quindi il concetto poi è luscito eh sì eh così e cioè non significa poi non non andare al cinema quindi allo stesso modo mi auguro che no avere un abbonamento nelle varie piattaforme che offrono ebook audiolibri non non significa che poi non recarsi in libreria eh per una presentazione oppure per 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 scegliere altri libri no quindi mi auguro che le cose possano andare ad aggiungersi forse nel caso dei dei video giocchi in realtà non so quanto lì ci sia questo feticismo dell'oggetto invece no perché il libro è anche una cosa eh appunto che regali no eh eh e ecco e comunque a quitte affezioni che sottolinei che che porta dei che si tiene dei ricordi no e magari invece il appunto il videogioco forse forse meno cioè non so quanto uno sia si possa legare poi a proprio a una qualche misura sì dobbiamo pensare secondo me più al prodotto multimediale tra virgolette come il film film ha avuto il film un video un impatto negativo dal mondo dello streaming però il cinema forse anche il cinema per carità però chiaramente sono due esperienze diverse cioè non andrà mai a sostituire mi auguro veramente una luna non andrà mai a sostituire l'altra chiaro che sì il dvd sicuramente sì più del penso che anche più del libro sì sì ma sta dando un taglio bellissimo la puntata io uscirei quasi quasi ma infatti andiamo ce ne noi due no no e andrei via io perché siete serie mi piace tanto devo mantenere questa cosa molto seria il tuo spunto è veramente figo una domanda vera c'è c'è il feticismo del videogioco come si in una qualche misura sì e c'è soprattutto il feticismo dell'oggetto legato all'hardware quindi al computer da aggiornare anche una forma di macismo quello ci perdonino i proprietari di computer potentissimi di stimiamo tantissimo però stai parlando verso un macbook pro da 3500 euro esattamente esattamente infatti abbiamo non me lo rubate per favore sì però il mac già poi non è il computer davvero feticista ovviamente né dei videogiochi né altro perché è una piattaforma completamente diversa la sono cavata quota quota però ecco esiste comunque questo tipo di affezione per l'oggetto un oggetto che poi tu manipoli che aggiorni non dire niente sul manipolare manipoli aggiorni del quale ti prendi cura insomma e quindi questa cosa secondo me non verrà eliminata nel giro di due anni credo credo ma non sia più sicuro di niente ormai anche perché poi mi pare di notare che in realtà ci rende la vita più comoda poi alla fine ci impigrisce in realtà poi lo accettiamo cioè appunto io non faccio magari abbonamento né a netflix né a nemmeno spotify però poi alla fine li uso lo stesso quindi in qualche modo mi sei una scroccona stai dicendo questo però capisci che non faccio apposta cioè nel senso evidentemente in qualche modo queste cose poi ti impigriscono appunto e ti capitano lo stesso se non sei tu a cercarle dovremmo invitare McLuhan il fantasma di McLuhan per parlare di questa estensione di medium messaggi dei corpi dell'uomo molto bello è vero però è vero per esempio molto interessante il discorso che fece lo zio monti qualche giorno fa sul fatto che nei primordi diciamo di tutti questi servizi di streaming a pagamento eccetera già lui ci aveva pensato tutti lo presero per il culo dicendo ma dai figurati se gli italiani pagano per poi è arrivato a netflix in realtà quando un servizio di streaming o di gaming funziona bene diciamo entra nella tua mente a tal punto da dire non ne posso fare meno anche l'italiano che è super restio a appunto a pagare qualcosa poi lo fa e noi tutti siamo succubi di netflix ormai di spotify sostanzialmente che ci ciucciano quei 200 euro l'anno che diamo a queste piattaforme è già stato tutto inventato finché non inventano qualcosa di nuovo ogni cambiamento epocale richiede qualcosa che funzioni da traino se non avviene questo tipo di meccanismo non avviene mai il progresso non avviene mai il grande cambiamento non abbandoniamo mai le vecchie abitudini pensiamo ora le auto elettriche se non ci fossero alcuni player come tesla che giocano il ruolo da leader non ci sarebbe mai un effetto trascinamento in avanti certo quindi esistono alcuni leader che guidano il cambiamento che lo trasformano che tratteggiano il mondo che viveremo tra qualche anno allora facciamo anche una piccola analisi diciamo che riguarda sempre il marketing e questo nuovo prodotto sicuramente big g che non è il nome di un pornatore ma è google sta mettendo in piedi come al solito qualcosa di grande come questo sta per denunciare ho detto sta per mettere qualcosa di grande come stadia sempre e nell'ottica della profilazione credo perché il mondo del gaming è un mondo dove i dati sensibili sono molto interessanti perché sono i diciamo i compratori del futuro perché sono sempre un target molto giovane come federico che oltre ad usare tinder usa filippo forse su tinder si chiama federico filippo zuc si chiamerà così molto scaltra cercate filippo zuc 39 anni ha aumentato l'età vabbè ma metterete la più alta perché le tipe vogliono quelli giovani credo che bello bellissimo ventenne cercherebbe un ventenne su tinder cerca quello più vecchio scusate devo andare tu sei ancora appetibile io sono fuori range comunque non abbia la stessa età vecchia sì ma non mettono 35 dicono dopo i 30 è pelato comunque la questione è questa la profilazione secondo me è interessantissima per questo servizio il fatto di integrare come sempre tutto quanto quindi youtube che è il più grande servizio di video streaming al mondo e lo resterà penso per molto tempo ancora e il fatto appunto di twitch visto che del competitor a questo punto cosa fa google dice adesso ti faccio una bella piattaforma l'integro con youtube da un sacco di mazzare ritornano tutti su youtube i gamer no perché io conosco alcuni gamer tutti un po ritardati possiamo dire la verità non riguardo come fenomeno ma amante chiuso le fava j anziché favi j questi qui che sicuramente adesso magari su twitch spopolano potrebbero tornare tutti su youtube quindi un salto cerca di riportare i suoi talents in casa in modo da monetizzare sempre di più quella piattaforma non solo poi tu parlavi di profilazione ed è un punto fantastico perché noi voi pensate che navigate su internet sempre loggati su google la vostra posta gmail l'account youtube benissimo voi state passando consapevolmente tutti i dati così così esatto in questo caso addirittura c'era una parte della nostra esistenza che google ancora non monitorava quindi le nostre abitudini legate al gioco al gaming alle piattaforme gaming playstation xbox pc gaming eccetera benissimo si vuol prendere anche quelle quindi avrà una conoscenza circa di 24 ore su 24 7 giorni su le nostre attività questo ci rende oggetto di mercimonio per quanto riguarda i nostri dati che sono facilmente vendibili respira e quindi è un po ansiogena un po ansiogena un po ansiogena sarà molto ben snatch di nuovo tornerà infatti ben da snatch già comunque con l'idea del gioco portato nella dimensione dell'intrattenimento vi consigliamo di riascoltarlo più cliccati tra l'altro amatissimo quella settimana tutti hanno cercato notizie su quel cazzo di bendernec che poi alla fine non è piaciuto a nessuno comunque io ci ho messo tipo 7 ore a me non è piaciuto per niente tu l'hai fatto tutto perché poi ho questo problema non male che infatti non sono una persona che gioca perché io non non potrei farlo non ho cioè io subisco subito sviluppo subito una dipendenza e quindi sì quella puntata l'ho fatta in 7 ore ho dovuto fare tutte 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 le ipotesi iper compulsiva comunque tu sei bravo in radio devi tornare e fare una cosa stabile mi piace tantissimo la voce anche come parli cazzo a parte queste logico così in diretta scusate no è verissima io ho lo stesso problema con la coca cola con i videogiochi e con gli alcolici potrei essere un alcolizzato a quest'ora e forse lo siamo no non mi avvicino all'alcol per questo motivo è vero anche io videogame questo bendernec a me mi ha fatto esaurire ma così tanto 7 ore no dopo due tre ore ho detto vabbè no io dopo un paio d'ore l'ho mollato non mi ha non mi ha preso a un certo ma non è questo ma neanche a me capito io posso anche odiarle le cose ma se il punto di finirlo a quel punto devo sapere tutto faccio così con la coca cola devo finire tutto la bottiglia quello idem purtroppo quello va sbagliato volevo sbagliare il numero di telefono adesso non mi ricordo nemmeno non riuscivo più a tornare vabbè mi guardo la vostra puntata bellissimo è stato terribile una serata terribile e quindi c'è un altro spunto interessante che nasce da un video che ho visto tempo fa sostanzialmente cosa succede che ci sono ormai due tre marketplace giganteschi mondiali del gaming come stream uno si chiama stream che mi sa il primo player mondiale e che cosa ha fatto attenzione stream e qui c'è di mezzo la cina incredibile in un video game la cina veniva criticato cioè veniva caricato il suo criticato suo leader maximo ok quel game che stava fatturando milioni nella piattaforma steam è stato ritirato attenzione perché gli utenti cinesi si cominciano a lamentare di questa cosa quindi attenzione chissà cosa succederà a quanto punto a questo punto con stedia che ho letto si appoggerà a diversi marketplace di gaming ma sicuramente avrà un catalogo anche da proporre cosa succederà visto che sappiamo tutti che google ha avuto un sacco di problemi con la cina staremo a vedere poi anche nel mondo del gaming se ci saranno problemi e tensioni in merito anche a queste questioni geopolitiche diciamo quindi sarà interessante anche da questo punto di vista capire quanto sarà libero il mercato del gaming dal punto di vista appunto della che ne so la critica ai poteri eccetera eccetera perché poi spesso il mondo del gaming a queste queste cose quindi questa era molto interessante ha fatto pensare cioè ritirare un gioco che fa fatturare milioni a una piattaforma americana in cina è stato ritirato in tutto il mondo non solo in cina quel gioco quindi attenzione e noi che abbiamo sottoscritto diciamo questo questo nuovo accordo con la cina ci pone anche alla grande diciamo da questo punto di vista da mi fermo la puntata poi la puntatina politica è un nostro classico arriva arriva verso quest'ora è di solito una puntatina politica ci sta la nostra era cosa ne pensi non so nel mondo dell'editoria se succede qualcosa del genere no non mi sembra ci può ci sia un di un parallelo di questo tipo ritirano copie i cinesi ti sono lamentati con te tu hai ritirato le copie no questo non c'è capitato di sette pagine no sinceramente mi sembra un po meno possibile questo parallelo sì però vedi appunto il mondo digitale come l'abile rispetto al mondo cartaceo molto più stabile c'è capito lì sparisce una cosa sparisce per davvero magari il libro trovi un modo clandestinamente poi magari c'è il deep web puoi fare tutto lo stesso però davvero questa è una cosa importantissima legata al digitale qualcosa che viene fatto fuori ok può riuscire in maniera clandestina però se tu fai sparire la fonte e riesce a bloccarla davvero sparisce cioè non ce ne sarà mai più memoria allucinante cazzo altre notizie in merito che ho letto è il il chi costi c'è chi dice che probabilmente all'inizio sarà a gratis come tutte le start up digitali poi google non è che ha tanti problemi come abitudine di ogni buon spacciatore no ti do la droga gratis poi sicuramente data center di google non sono piccolini quindi non ci avrà grossi problemi a questo punto ti chiederei cosa farà invece un altro grande player come facebook che dal punto di vista del gaming era partito alla grande ci ricordiamo tutti farm ville queste minchiate una dipendenza anche per pet society era ce l'avevo anch'io mi ero fatta dei profili aggiuntivi solo per darmi le vite ci stava la grande lei questa puntata sì come c'è patologica sì tutte queste le ho sviluppate ma c'è anche un'applicazione adesso non mi ricordo giochino di gelatine anche lì non lo so ah quello candy crush sì anche quello mi ha devastata pure quelli tutti quindi giocavi capisci che non mi vivo come giocare questa era una lotta una guerra quindi se mi domandi combattere via la ti dico di sì ma se tu mi dici giochi diversa la pena tantissimo molto male molto male ma poi non mi piacciono già questa cosa allucinante di odio di odio e mentre di padre però non posso smettere sembrano le confessioni l'alcolista bellissimo la notizia di ieri di amano nell'ercio che uno è arrivato in un gruppo di alcolisti e non gli ubriachi a meno tutti è stato veramente il top come notizia immagino lei che entra in un gruppo dove c'è gente che fa gaming e li menno tutti e vince lei e ruba le vite potrebbe essere una figa comunque stavi dicendo forse una cosa se c'è una cosa se la ricordo più quindi da bambina giocavo street fighter in maniera compulsiva anche in questo caso è chiaro è chiaro però quello me lo sono goduta invece questi altri meno mi uccidono anche io non potevo fare questa cosa perché poi volevo distruggere il il cabinato si non so come si chiamava il coso proprio il gioco in sé di fatto gigantesco sai lo volevo sfondarlo perché dicevo cazzo ma è vero che storia cominciamo a gridare come un dannato una volta ho rotto un mobile giocando il risico che ho perso 16 mani risico e causa 16 mani di segui mano di segui 16 mani mani 16 mano di seguito c'è l'ho detto ma posso perdere 16 volte di seguito cazzo che sfondato un mobile mi sono ritirato dal gioco no ma risico da allora ho chiuso risico con lo scotch ecco cioè io li vivo tutti come risico bello ti inviterò la prossima volta che si chiama risico abbiamo altro da dire prima parlavamo di facebook al volo facebook sarà buttato sul mondo del game la facciamo abbastanza breve era una scommessa poi quella recente di zuckerberg in gran parte legata alla realtà virtuale che tramite oculus rift no che non è riuscita a spiccare ancora il volo per l'utenza consumers su grandi numeri quindi c'è qualcosa del gaming è sì però per questo per questo turno qua sta fermo in prigione perché perché sono passati altri ciaune sì mi sa che guardare su nell'ottica della realtà virtuale ancora troppo presto sì sì e no comunque ancora non frega abbastanza abbastanza persone pochi nerd pochi sì sì ma poi richiede comunque degli spazi le situazioni quando provato a giocare col playstation war tra un po distruggevo la camera di un amico quindi mi ha fermato appena in tempo ma io stavo tipo menando qualsiasi senza motivo si fatti un video lo mettiamo in streaming secondo me così mi potete canzonare e bullizzare è bellissimo internet è fatto per quello esatto vuoi lanciare un appello ai nuovi utenti di stadia che ne sono cosa io gli dico salvatevi non finite come me la nuova speaker è veramente grazie e torna torna perché hai dato un tocco mi piace stupendo sono patologico per tante cose salutiamo la ragazza cinese che dominerà il mondo va bene è stato un sogno abbiamo detto tutto un sogno anche stavolta detto tutto è il contrario di tutto ci siamo piaciuti molto questo è l'edonismo perfetto e l'onanismo anche vi amiamo tanto ok sì grazie ciao